gentili telespettatori buona giornata il ministro valditara dice ma io non ho mai parlato di sanzioni contro la preside savino il ministro interviene su twitter dopo le parole dette a mattino 5 ci sono state dette tante cose ma io non ho annunziato sanzioni è vero sì ha ragione non ha annunciato sanzioni ha detto se si ripetono queste cose dovremmo prendere dei provvedimenti se si ripetono quindi sul fatto in sé non c'è nessun provvedimento nessuna sanzione su questo ministro si scaglia tutta l'ideologia sempliciotta della sinistra c'è una preside che fa un utilizzo politico del suo ruolo evocando è proprio così che è iniziato la dittatura tanti anni fa oggi frontiere insomma un intervento politico politico secondo me e secondo valditara valditara dice la preside dovrebbe fare la preside non dovrebbe fare politica giustissimo dice però se continua a fare politica eventualmente poi prenderemo provvedimenti giustissimo valditara dice non c'è nessun ritorno del di di un di una dittatura giustissimo e risponde ai contestatori sinistri non ho mai parlato di sanzioni giustissimo quindi sto povero ministro che cosa avrebbe fatto di male secondo voi io probabilmente avrei detto le sue stesse parole oggi vogliono fare la mozione di sfiducia che peraltro non porta da nessuna parte perché la maggioranza è di centrodestra e governa mozione di sfiducia per farlo dimettere per costringerlo a dimettersi con una mozione di sfiducia una mozione di sfiducia vuol dire che il parlamento a maggioranza dice che deve andarsene ma la maggioranza di centrodestra piccolo dettaglio e raccolgono le firme 91 91.000 93.000 ma raccogliete le firme per fare che cosa 91.000 firme di sinistri che con i loro muri ideologici a chi se ne frega delle 91.000 firme vogliamo raccogliere un milione due milioni di firme dall'altra parte insomma questa è l'occasione a sinistra per far casino cioè non sanno letteralmente da che parte girarsi non sanno che pesci pigliare perché la meloni sta facendo il suo lavoro il centrodestra sta facendo il suo lavoro l'economia non va male sta andando bene la borsa il pil lo spread scende l'inflazione scende quindi l'economia va bene certo ovviamente c'è sempre chi si lamenta ma l'economia l'economia italiana sta andando bene in questo momento non sanno cosa dire sul governo ogni settimana tirano fuori hai detto hai detto hai pensato hai detto volevi dire volevi pensare e proprio sono proprio delle reazioni sempliciotte proprio superficiali cioè ma tirate fuori dei temi parlate di qualcosa la schline ieri che canta bella ciao in risposta valditara è di una tristezza mi si infonde una tristezza infinita però tifo per schline sì che ci fai fare tanti video vinci le primarie e fatela vincere no fatela vincere così saranno tanti video divertenti garantiti garanzia cento per cento di video divertenti certo una che va a cantare bella ciao in risposta valditara non ha prezzo non ha prezzo però come vi dicevo una sinistra vuota che non sa parlare agli italiani non sa proporre nulla chiede le dimissioni del ministro e che cosa avrebbe fatto sto ministro ha osato dire guardate che non c'è nessuna dittatura in arrivo è praticamente una sciocchezza però è comunque una lettera politicizzata non deve non deve esistere nella scuola delle presidi che utilizzano il loro ruolo per fare politica è a ragione è a ragione è a ragione da vendere potrebbe vendere pezzi di questa ragione al miglior offerente ma il ministro poveraccio dice ma sono state dette tante cose ma io non ho annunziato sanzioni non l'ho detto mi fate anche dire quello che io non ho non ho detto dice sono state tante dette tante cose scrive su twitter giuseppe valditara a proposito della sua intervista mattina 5 in cui ha parlato anche della lettera aperta di una dirigente scolastica di un liceo di firenze ai suoi allievi dopo gli scontri dei giorni scorsi davanti a un istituto fiorentino analisa savino martedì aveva scritto ai suoi studenti per invitarli a non essere indifferenti prendendo posizione contro il fascismo e contro le aggressioni di sabato agli studenti del michelangelo 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 sto leggendo michelangelo si chiama così o è michelangelo non lo so ma il ministro dell'istruzione valditara ieri mattina lancia una stoccata contro la preside dice in italia non c'è nessun pericolo di ritorno della dittatura inviterei la preside a riflettere più attentamente sulla storia e sul presente valditara definisce la lettera impropria e fa partire e dice se questi atteggiamenti dovessero persistere vedremo se sarà necessario prendere delle misure ha ragione ha ragione da vendere ha ragione da vendere ma i sinistri saltano sulla sedia cosa hai detto cosa hai detto e ha detto le cose giuste ha detto così giusto ha detto così giusto vabbè insomma io poi non mi sono molto interessato su questa faccenda chi ha cominciato hanno cominciato quelli di sinistra hanno cominciato quelli di destra no quelli hanno risposto perché hanno cominciato gli altri no non è vero è il contrario non mi sono messo a spulciare i giornali per capire chi ha cominciato realmente su su destra e sinistra studentesca non ho approfondito ricordo quando non hanno fatto entrare all'università capezzone un altro che volevano fare un convegno insomma io vedo atteggiamenti totalitari sia a destra che a sinistra soprattutto nei giovani giovani un po persi credo che non sanno manco cosa sia la storia insomma io vedo un po delle generazioni tante generazioni persi io vedo un po un popolo perso perso dietro a stupidaggini di dittature comunismi vari insomma siamo nel 2023 c'è una crisi internazionale c'è un'italia che è decadente stipendi da fame molta molta poca istruzione gente che non riesce più neanche a scrivere a con l'h quando è un verbo e con l'accento vedo vedo di quelle cose che voi umani non potreste neanche immaginare e siamo ancora qui a parlare di di nostalgici e deprimente deprimente arrivederci a tutti e grazie Grazie